Perché il signor viaggio apre a Italia? Qual è il motivo del suo viaggio in Italia? L'Italia è un paese amico del Brasile, ha dato un grande contributo al processo di crescita economica brasiliano. Io vengo da una regione poco conosciuta del Brasile, il nord-est. Oggi si tratta della regione con maggior crescita del Brasile e il mio Stato in questa regione è il centro economico, culturale e scientifico. Percepiamo che la nostra alleanza strategica con l'Europa è con l'Italia. Contiamo su varie aziende italiane che ci hanno già aiutato nello sviluppo, come la Danieli nella siderurgia, come la Mossi e Ghisolfi nella petrolchimica, Telecom Italia nelle telecomunicazioni. E adesso anche la Fiat, presente da quasi 40 anni in Brasile, ampierà la sua produzione con un impianto in Pernambuco. Quindi è il nostro massimo interesse cooperare con Torino, che è la base della Fiat, impresa tanto amata dai brasiliani. Vogliamo cooperare con il Politecnico di Torino. Abbiamo firmato un accordo quadro affinché studenti brasiliani vengono a studiare a Torino. Ed anche la possibilità a studenti di Torino di andare in Brasile a studiare, insegnare e stringere questa relazione fra Brasile e Italia. Allora, una relazione Brasile-Italia, come può migliorare l'Italia-Torino? Quali i vantaggi di questi rapporti? Tra Italia e Brasile ci sono legami storici, demografici, politici, economici di lungo periodo. Negli ultimi anni il Brasile è diventato una grande potenza dell'economia globale, è un paese che attrae investimenti e offre un mercato straordinario. E l'Italia, con le sue imprese, è interessata naturalmente a stabilire rapporti sempre più stretti con il Brasile, perché può offrire tecnologia, know-how, esperienza, capacità produttiva, e può nascere una cooperazione in ogni campo di straordinario interesse. La decisione della Fiat di aprire un secondo stabilimento in Brasile, a Recife, nello stato di Pernambuco, offre un'opportunità in più. In particolare, l'opportunità di intensificare le relazioni tra Torino e Recife, tra il Piemonte e Pernambuco, in ogni campo. Il fatto che già ieri si sia siglato un accordo tra il Politecnico di Torino e l'Università del Pernambuco è la dimostrazione del fatto che la cooperazione può svilupparsi e crescere in tutte le direzioni e io penso che bisogna lavorare così. La Fiat può diventare il ponte ideale tra queste due grandi realtà, italiane e brasiliane, e possiamo così lavorare insieme e crescere insieme. Cosa pensa dell'elezione di Piero Fassino a sindaco di Torino? Siamo abbastanza eccitati perché questo 15 maggio Torino avrà un nuovo sindaco che possa favorire lo sviluppo di Torino, lo sviluppo dell'Italia, affinché l'Italia avviva una nuova fase politica e questo significa anche l'avvicinamento di questi due paesi amici che hanno molto da lavorare insieme e di intensificare questa cooperazione e che questo torni utile sia ai brasiliani che agli italiani, tanto alla gente del Pernambuco, tanto a quella di Torino. Ci guadagneremo da questa relazione, penso sia favorevole per entrambe le parti. Vogliamo tornare in Italia e a Torino per essere ricevuti da Piero come sindaco di Torino.